Il nostro giro al Motor Show 2007 prosegue allo stand della Lancia, oggi siamo insieme a Ilaria, una delle hostess che abbellisce le auto presenti qui al Motor Show. Ciao Ilaria! Ciao a tutti! Allora, volevamo farti una domanda semplicissima, è così facile fare la hostess vicino a un'auto al Motor Show? Può sembrare facile, obiettivamente visto dal di fuori, so che può dare questa impressione, ma non è assolutamente così. Sì, stiamo qua ore, arriviamo la mattina prestissimo, ci devono sistemare, stiamo in piedi fino alla sera, torniamo a casa, non è finita, magari qualcuna di noi deve ancora lavorare, starà ancora in piedi, stiamo in piedi tutto il giorno. Ecco, a grandi linee secondo te quante foto ti scatteranno durante il Motor Show? Oddio, durante tutto il periodo, considerando che sono più o meno 12 giorni, migliaia! E i flash dopo un po' danno fastidio? Beh, oddio, ogni tanto può essere fastidiosa la raffica, diciamo, soprattutto i giorni del weekend, pieni di gente, i ragazzi. Senti, altro altarino magari da scoprire, sapete realmente qualcosa delle auto alle quali state vicino oppure studiate due minuti prima? Sappiamo tutto. Va bene, allora ti crediamo sulla parola. Sì, ecco, non facciamo domande. No, no, assolutamente. Ultima cosa, sei una veterana del Motor Show, ne hai già fatti altri? È il mio terzo anno e sono ancora qua. Ecco, allora, negli anni l'hai visto cambiare, l'hai visto migliorare la gente che c'è appassionata realmente? Sì, penso che chi è appassionato non se ne salti uno, quindi di anno in anno la gente continua a venire. Si comportano tutti bene? Non rispondiamo. Perfetto, l'ultima cosa, chiaramente se è lo stand della lancia, immagino che tu preferisca su tutte le lancia. Ovvio. Perfetto, spendi da chiusura, ti ringrazio molto. Grazie a te. Grazie, buon lavoro. Grazie.